Un uomo di 75 anni è morto alla guida della sua auto dopo un terribile schianto con un'altra auto allunata. La tragedia, nella quale ha perso la vita Aldo Della Ringa, residente a Porcari, si è consumata poco dopo le 11 in via Antonio Rossi. La vittima, al volante di una Peugeot 206, per dinamiche ancora tutte da chiarire, si è scontrata con una Volkswagen Polo, finendo la sua corsa fuoristrada. I inutili tentativi dei soccorritori, giunti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo, per il quale il violentissimo impatto è stato fatale. Inizialmente era stato allertato anche il Pegaso, che però è servito a trasferire al Meyer di Firenze una bambina che viaggiava nella Volkswagen Polo, guidata dal padre di 32 anni, residente a Capannori, che è stato accompagnato in codice giallo all'ospedale di Lucca. Sul posto, oltre al Pegaso, un'ambulanza della misericordia di Monte Carlo, i vigili del fuoco, la polizia municipale e i carabinieri. La strada è stata chiusa a diverse ore per i soccorsi e i rilievi in entrambe le direzioni.